Qui per fare memoria di un altro terribile giorno, di quel tempo terribile e di quelle stati padermitane che erano caratterizzate da stragi di mafia. Siamo qui per ricordare Cesare Tranova, Lenin e Mancuso, per ricordare due uomini dello Stato, due servitori dello Stato, due garanti della legalità che hanno trovato la morte per mano mafiosa, criminale, in un tempo nel quale la mafia aveva il volto delle esecuzioni e apparivano eversivi coloro che chiedevano l'applicazione della legge. A distanza di 42 anni siamo qui per fare memoria, per tenere alta attenzione, perché non tornino mai in questa città quei tempi terribili.